Salve a tutti quanti, io sono Terenas e benvenuti alla presentazione del Red Bull Factions. Il Red Bull Factions è un evento che abbiamo organizzato nel 2016 e che vogliamo riproporre in formula cambiata quest'anno. L'anno scorso erano team da 3 contro 3, ma da quest'anno in poi invece saranno i team 5 contro 5 che si scontreranno sulla banda. Niente più 3 contro 3, ragazzi, abbiamo ascoltato quello che avete detto. 5 contro 5, classico, normale, tranquillo. Con una differenza. Terremo sempre il sistema delle fazioni perché è ciò che rende Red Bull Factions tale. Partiamo. Praticamente l'evento si separa in 4 fasi distinte. La prima fase che è la fase dei qualifier. Cosa sono i qualifier? Saranno 4 giorni in cui durante quella giornata ci sarà un mini torneo ogni giorno di quei 4 giorni che sono il 2, il 3, il 9 e il 10 luglio in cui potrete partecipare a questo mini torneo. Potete partecipare a tutti a proposito. Se risultate vincitori di questa giornata di qualifier, parteciperete a Red Bull Factions. C'è solo un vincitore per giornata di qualifier, quindi impegnatevi a fondo. Ah, e non solo. I team di pro player sono già stati invitati. Loro sono già nella seconda fase, quindi non vi troverete contro di loro. E quindi potrete accedere tranquillamente e non fatevi problemi perché avrete tutti quanti una chance. Entrati nella seconda fase, che inizia dall'11 luglio e va avanti fino al 9 di agosto, cosa succede? Viene attivato il sistema delle fazioni. Il sistema delle fazioni qual è? Molto semplicemente scegli delle fazioni del mondo di League of Legends, come Noxus, Demacia, Ionia, Bundle City, il Freljord e tanti altri, il Void, Shurima. Ce ne sono tantissimi, voi ne scegliete alcuni e potete scontrarvi all'interno della landa contro altri team utilizzando queste fazioni. C'è una cosa importante a dire, ovviamente non tutte le fazioni hanno sufficienti campioni e quindi una parte dei campioni che sono, diciamo, dei mercenari, sono degli indipendenti, vengono resi gratuiti, resi capaci di essere presi da qualsiasi giocatore. Ogni volta che voi sceglierete il vostro team, la vostra composizione di team, dovete considerare questa cosa, almeno tre campioni devono essere della fazione da voi scelta e gli altri due possono far parte dei cosiddetti indipendenti. Una volta superata questa fase, i primi due team della classifica della seconda fase passeranno direttamente alla quarta, che è la finalissima a Milano. Invece il terzo, quarto, quinto e sesto posto cosa faranno invece? Si scontreranno tra di loro per vedere chi andrà a Milano. I vincitori, ovviamente, andranno a Milano e quindi saranno in quattro team a Milano totali. L'ultima fase è quella dell'1 ottobre a Milano, in cui i quattro team rimanenti si scontreranno, l'uno controllando tutto il giorno, finché non potremo incornare il campione del Red Bull Factions. Ragazzi, questo è un evento molto raro e quest'anno per il Games Week abbiamo preparato una sorpresona veramente incredibile insieme ai ragazzi di Personal Gamer e ai ragazzi di Red Bull. Quindi vi chiedo davvero di sostenere come potete, parlatene ovunque, perché questi qua sono eventi che non solo aiutano la comunità italiana a creare un po' di competizione, non solo è una cosa di sport, ma è anche una cosa molto divertente e molto piacevole, proprio per il formato diverso che è una via di mezzo tra gli esporti e un torneo serio. Spero che possiate sostenere la nostra iniziativa, vi lascio ovviamente un link nei commenti e nella descrizione del video, proprio per essere sicuri che l'abbiate trovato. Io sono Trenas e ci vediamo a Red Bull Factions.